L'Atalanta perde 3-0 contro il Torino in una partita che davvero lascia sconforto e sconcerto. Una partita in cui l'Atalanta non è mai stata in gara, succube dell'avversario, incapace di produrre qualsivoglia azione offensiva e l'impressione davvero di essere impalpabili per 90 minuti. Una partita in cui sono venuti al pettine tutti i nodi che abbiamo elencato dall'inizio della stagione, però sono arrivati tutti insieme, complici poi anche altre situazioni, quali gli infortuni, l'infrasettimanale, il patatrack, è stato servito. Come al solito faccio alcune considerazioni, ovviamente a titolo personale, poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Io parto subito pulendo un equivoco importante. È vero che la partita di ieri sicuramente è stata condizionata dagli infortuni, dall'infrasettimanale, da alcuni giocatori magari panchinari a cui non è chiesto un ruolo di leadership e che ieri non l'hanno potuto sostenere. Però le attenuanti di ieri, cioè queste, sono le aggravanti della stagione. Perché se è vero che da un lato ti aiutano a comprendere la sconfitta col Torino, dall'altro ci fanno anche capire che la stagione non è stata pianificata nella maniera corretta. Il numero di infortunati, un flessore al giorno, è insostenibile, è impensabile. Il valore degli acquisti con alcuni che praticamente non vedono il campo e quelle poche volte che lo vedono non producono niente, è qualcosa che deve far riflettere. La condizione fisica di quelli che rimangono in piedi, che a dicembre camminano, è un altro elemento che non si può ignorare. Sono tutta una serie di elementi che fanno veramente pensare che la stagione non sia stata organizzata nel migliore dei modi. E anche quando abbiamo vinto, quando abbiamo fatto bere, comunque delle crepe si vedevano. Io dall'inizio della stagione partite che per 90 minuti, dici, le abbiamo giocate bene, forse ne ricordo una. Poi per il resto è un vivacchiare, a volte bene, a volte male, a volte un po' affidati al caso. Però oggi siamo arrivati a dicembre ed effettivamente la squadra non c'è. I giocatori in campo non riescono a incidere, i senatori alcuni tirano la carretta, altri manco la tirano. Il mister non sa più che pesci pigliare, anche perché i pesci sono veramente pochi ormai a poter mettere in campo. E da questa roba qua bisogna in qualche modo capire come se ne viene fuori. Perché è quello lì il tema. Il tema è capire come ora se ne viene fuori e l'impressione è che non lo si sappia. Perché, ripeto, tante cose le vediamo dall'inizio della stagione. Al di là di un po' della forma fisica, che ora però sta peggiorando di nuovo, miglioramenti in generale non se ne vedono, né in termini di gioco, né in termini di sviluppo dei giocatori, né in termini di risultati particolarmente. Non lo so, non lo so, davvero io non mi sono mai trovato nella situazione di commentare un'Atalanta così smarrita. Eppur credendo ciecamente che questa squadra abbia una rosa competitiva, devo scontrarmi con la realtà che ieri non siamo stati in grado di tirar fuori 11 giocatori che potessero affronteggiare un Torino che, con tutto rispetto, non era niente di che. Era una partita assolutamente alla portata. Non siamo stati in grado di tirar fuori 11 giocatori, in grado di giocare una partita alla pari col Torino. Questa roba qua è, a mio avviso, clamorosa. È, a mio avviso, una roba che ci deve far riflettere tanto, come ha detto il mister. Perché a una certa si può portare pazienza, si può fare tutte le riflessioni, ma a una certa poi bisogna anche prendere dei provvedimenti e capire quali sono. Aspetterà poi la società, che sarebbe anche interessante sentire ogni tanto qual è il punto di vista, qual è la rotta, quali sono le strategie per oltrepassare questa palude. Perché anche lì, forse, se ci chiarissimo anche pubblicamente le idee, magari sapremo tutti da che parte stiamo andando. L'impressione oggi è che l'Atalanta sia una zattera in mezzo al mare, in balia delle onde, e non c'è nessuno in grado di dire andiamo di qua, andiamo di là, andiamo di su, andiamo di giù. Se andiamo col vento a favore, magari la portiamo anche a casa. Se andiamo col vento a sfavore, c'è niente da fare, ma nemmeno due passaggi riusciamo a fare. Il tutto poi è aggravato anche da una condizione mentale di questa squadra, che probabilmente si sta rendendo conto che le cose non girano, non ha una spessore mentale tale da riuscire a ripigliarsi e quindi raddoppia il numero degli errori, raddoppia il numero delle situazioni strane. Il rigore di ieri è, per esempio, clamoroso, ma è figlio di un'ansia, di una deconcentrazione, di una pressione che non si è in grado di gestire. Non vedo altre spiegazioni. Ripeto, io resto convinto che c'è una squadra di valore, però mi rendo anche conto che non gira. Presto o tardi bisogna anche prendere delle decisioni e capire che cosa non va. Non vanno determinati giocatori. Si può intervenire sul mercato di gennaio, ma gennaio è a fine mese, ci sono ancora tre partite in mezzo e se le giochiamo come le stiamo giocando, poi gennaio conta fino a un certo punto. Ci sono tante, tante cose che mi domando. Il perché, per esempio, Gasperini, che non ha mai avuto problemi a buttare dentro dei giovani, ieri non l'abbia fatto. Abbiamo adattato difensore quando, per esempio, c'era Bonfanti. Non ti salverà, non ti farà vincere, ma almeno c'è un segnale, c'è una logica. Non lo so. Davvero mi sembra veramente per la prima volta io mi trovo davanti a una squadra di che non so commentare perché vedo tanti problemi. Ripeto, secondo me non sono neanche singolarmente così mastodontici, a parte quello degli infortuni, ma non vedo una strategia, non vedo un percorso, non vedo un dire ok, seguiamo questa strada e andiamone fuori. Mi sembra veramente un vivere alla giornata che per carità a volte funziona perché è innegabile che siamo messi bene nel girone di Coppa e è innegabile che anche la posizione in classifica tutto sommato, se la si guarda rispetto agli avversari, non abbiamo perso tanto, però le crepe che ci stiamo portando dietro diventano sempre più grandi. Quindi bisogna tirar fuori lo stucco, bisogna capire come fare a rinchiuderle perché se da agosto ad oggi non siamo ancora riusciti, la preoccupazione che non ci si arrivi proprio è legittima. Ripeto, serve un confronto franco fra tutti i giocatori, si facciano delle riunioni di team building, cerchino di trovare una quadra fra di loro e si detti una linea, una linea che sia una, ma quella deve essere perché partite come quella di ieri, francamente, non solo come tifosi non ce ne meritiamo, ma questa squadra è palesemente in grado di farne meglio. Può essere un episodio, per carità me lo auguro, però ripeto, le cose e gli errori che abbiamo visto ormai si portano dietro da tanto tempo. Quindi può essere che magari alla prossima facciamo una partita decisamente migliore, ma resta che nel suo complesso questa squadra ha tante, tante problematiche che mi pare si faccia molta fatica a risolvere ed è la prima cosa da fare, compatti, uniti, senza mai far mancare il sostegno, ma secondo me a questo punto è il momento anche di mettere le carte in tavola e capire che cosa non va e come ci si propone di venirne fuori. Io come al solito vi ringrazio e attendo di ascoltare i vostri pareri. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!